Anche dritto eh! Ehm Presidente! Ehm Presidente! Ehm Presidente! Bravo! Se buttavi sul davanti e poi la chiudi ti passa fuori! Però c'era eh! Porto! Porto! Ehm Presidente! Allora! 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 Che spaccata! Se non avevo la gamba lunga! Ehm Presidente! Ehm Presidente! Basta che non mi schiacci! Ehm Presidente! 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 Ma fa il sasso di sotto! Se fai il sasso di qua! Te la ritrovi più giusta! Ehm Presidente! la stringente e la prendete qua in piccata io qua sto giù perchè io voglio prendere la vetta l'ha fatto bene anche lui bello morbido viene in alto non ti fermare no vigile vigile non ho fatto niente davvero la targa c'è va nello zaino non ci preoccupi c'è anche i documenti no ma sei matto ma sei pazzo a fare un verso così deve avere gli occhi deve avere gli occhi avanti tre metri non l'ultimo dai pizza tutto bravo su bravo a posto pizza e via più della luce ho detto prima accendi dopo più veloce della luce vai che ti tengo ferma ciao 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 è andato è caduto